Gentili telespettatori, buona giornata. L'avventura del campetto largo PD 5 stelle sinistra italiana è stato un fallimento totale. Dovevano tutti insieme battere il centrodestra, centrodestra 64%, il campo largo, insomma il campetto di calcio piccolino per giocare a calcetto, 35% tutti insieme. Il PD non è arrivato al 12%, i 5 stelle sono al 7%, quindi sono stati proprio disintegrati nel Molise che ha stravinto. Quindi il campo largo che doveva, secondo Eliti, presento Schlein, doveva chissà vincere, cambiare le sorti del paese, l'inizio della riscossa invece è stato un disastro totale e così Eliti Schlein non demorde, insiste perché dice adesso che il Giuseppi ha preso il 7%, oggi sarà propenso a fare l'alleanza con noi. Insomma, dopo che gli è andata così male, adesso cederà e sarà convinto nel fare sto campo largo dappertutto allearci dove lei, la Schlein, diventerebbe la capa del partito democratico. In realtà il Giuseppi tira dritto, Giuseppi tira dritto perché lui vuole diventare il capo della sinistra della coalizione, quindi lui sa che ha 4 anni e qualche mese per fare di tutto ogni giorno dicendo che il governo fa schifo, che è robaccio. Lui ha 4 anni e mezzo di continuare a dire queste robe qua pensando così di raccattare voti di qua e di là. Quindi non ha nessuna intenzione di fare oggi un'alleanza quando ha 4 anni di tempo secondo lui per diventare il capo a sinistra e potrebbe anche diventarci perché con un PD ridotto in questo modo non c'è la probabilità che lui diventi davvero il capo dell'area di sinistra è anche abbastanza alta perché c'è lui e la Schlein, la Schlein politicamente è 0 assoluto, lui che è un poco più dello 0 dovrebbe raccimolare qualche voto in più dello 0, lo 0 qualcosa prende qualche voto in più dello 0 assoluto. Ma secondo loro il candidato gravina dei 5 stelle non ha convinto gli elettori, quindi alla fine cominciano a cercare di scaricare le colpe. La colpa è del candidato che non è piaciuto, non che la sinistra è 0 assoluto, no, la colpa è sempre del pesce piccolo, di quello che non può dire niente, quindi abbiamo perso, è la colpa del candidato, non ha convinto gli elettori, gli mancava quel... doveva avere un po' più eh? E' un po' meno eh? E' un po' più eh? E' un po' meno eh? Quindi scarichano la colpa su sto povero gravinia, ma è sempre così, di solito quando c'è da scaricare una colpa va sempre al più debole e qui il più debole era il candidato presidente della regione che oggi c'è, domani non ci sarà più. Così mercoledì scorso non era cominciato proprio bene questa avventura del campo semilargo. Frato Ianni aveva fatto anche un incidente con la macchina, la macchina di scorta di Conte è un altro incidente, il patto della limonata come che hanno chiamato i giornalisti dove alla fine non hanno risolto nulla, Conte, la Schlein continua a pregarlo di fare sto campo largo e lui continua a prendere tempo, poi ha accettato di fare sto campetto largo, semilargo, campetto di periferia, nato ai bordi di periferia dove i tram non vanno avanti più, dove i pugni presi a nessuno li ha mai resi, come dice Eros Ramazzotti, quindi questo campetto semilargo di periferia pieno di erbacce, dice Conte ha detto eh vabbè dai qui in Molise facciamo sto campo largo tanto, tanto dove dobbiamo andare, è così 35%, una tramvata di quelle proprio senza precedenti, bene è così, hanno candidato Gravini ha ritenuto la candidatura più competitiva ma oggi che perdono dicono sto candidato gli è mancato quel eh, doveva avere forse un po' più eh, quindi prima era il super candidato quello che chissà cosa doveva fare, oggi che hanno perso c'è colpa sua, gli mancava eh quella roba lì, va bene, perché non ha cercato il massimo coinvolgimento e di allargamento alla coalizione, beh, beh, così, certo c'è stato il tracollo del Movimento 5 Stelle da oltre il 31% al 7%, è sceso dal 77%, il PD è salito dal 7% a quasi il 12%, quindi un risultatone di quelli proprio ad andare fieri con le bandiere rosse e trionferà tra l'allero tra l'allà, bene, è così, adesso Giuseppe Conte finisce nel mirino, i meriti di questo risultato sono tutti di Conte, dicono, la politica non funziona con un partito personale, ha fatto fuori una classe di dirigente e ora si vedono i risultati, dice un grillino verso la Schlein e l'altro dice non siamo più ai tempi del re sole, ecco, vabbè, i grillini dicono vabbè ma lo sapevamo che si perdeva, no? La flessione in linea con quanto è oggi il quadro politico del Movimento 5 Stelle e qualcuno dice anziché prendere un caffè al bar forse serviva andare tra la gente nelle piazze, ascoltare e fare i banchetti, eh sì, è ovvio, cioè questi vanno al bar a parlare di alleanze quando sarebbero dovuti andare nelle piazze casa per casa, quartiere per quartiere a fare propaganda, ma quella è fatica, ma vuoi mandare la Schlein e Conte a camminare in regione a fare propaganda, ma quella è fatica, ma chi glielo fa fare? sono capi politici, hanno il seggio in Parlamento, hanno un bello stipendio, vivono in centro, hanno l'armocomista, giocano con la Playstation, l'altro fa l'avvocato, andare in giro a convincere la gente? Ma no, andiamo in un bar a porte chiuse con i giornalisti fuori che parlano del patto della limonata e poi quelli del patto della limonata prendono una tramvata che non finisce più, è così. Poi li chiamano i partiti della zona ZTL, quella del centro storico, ma questi manco nel centro storico vanno in giro, manco nel centro storico vanno in giro, se vanno nel centro storico con la scorta, con la macchina blindata, troppa fatica andare in mezzo ai comuni mortali a dire mi voti? Ma no, loro sono i capi politici, loro fanno i patti della limonata. Grazie a tutti e arrivederci a presto.